Ecco un tutorial su come scrivere la lettera A, ma in una maniera che scommetto non hai mai visto. Infatti nell'ultimo livello scrivi la lettera A in ben 5 minuti. La prima è una A normalissima, come la scrive chiunque. Già la seconda però è leggermente più creativa, ma anche questo credo che riuscirebbe a farla chiunque. Questa A la vedrai benissimo come titolo per la prima pagina dei quaderni, quella con un titolo enorme sopra. E adesso vediamo come scrivere la lettera A in 5 minuti. E prima che la finisca, se anche nel tuo nome c'è almeno una A, clicca mi piace. Voglio vedere in quanti siamo ad avere almeno una A nel nome. In questo livello ha messo la scotch al centro ed è nettamente più creativa delle altre due. E al centro ha lasciato lo spazio per il nastro dove ha scritto il suo nome, anche se il mio preferito rimane il secondo livello. Fammi sapere nei commenti qual è il tuo preferito. Vi leggo tutti.